E comunque per me è un onore, una possibilità venire in questo stadio davanti a tutta questa gente in una piazza così importante, io sono partito dalla terza categoria e trovarmi dopo 16 anni e avere la possibilità di calcare questi palcoscenici era un'opportunità troppo grande, la voglia era troppo forte. Non nasconde una certa emozione il 39enne Simone Muccioli, neo allenatore delle Rimini FC longianese e proveniente dalla Romagna Centro. Il patron della squadra, Giorgio Grassi, è stato chiaro, lo vogliamo per tutto il nostro futuro. Con questo vuole dare un messaggio di stabilità, pur non sottacendo il bilancio di società che definisce sconfortante. Il fatto che si sia parlato di un campionato di consolidamento non deve assolutamente rappresentare un limite alle nostre ambizioni e alla nostra voglia di fare bene. Che campionato si aspetta di fare? Io mi aspetto di fare un campionato dove tutti daranno il 100% e dove ogni singolo membro dello staff e ogni singolo membro della squadra uscirà ogni domenica e dopo ogni allenamento con la maglia sudata e avrà dato tutto per far bene per questi colori, per questa gente, per questa città. Ha già parlato con Grassi su come eventualmente rinforzare la squadra? Sì, stiamo confrontando col direttore, abbiamo degli obiettivi sia come under che come over per cercare di allestire un organico di tutto rispetto, un buon organico insomma.